Mule, vorrei commentare con lei questa ipotesi, anche perché fatemi vedere il grafico con le previsioni del Fondo Monetario Internazionale. I dati parlano chiaro, in questo momento la guerra costa di più in termini di perdita, di crescita all'Europa e in particolare a chi come noi e i tedeschi hanno maggiore dipendenza dagli idrocarburi rispetto per esempio agli Stati Uniti. Ci possiamo permettere delle nuove sanzioni che potrebbero essere esiziali per la Russia ma rischiano poi di avere un grave effetto boomerang anche per il nostro paese e per la nostra economia? Lo dobbiamo fare per coerenza e per salvaguardare quei valori, libertà, democrazia, vita che stiamo difendendo in Ucraina con delle sanzioni che hanno certamente degli effetti che possono essere mitigati in Europa con un nuovo recovery plan di cui bisogna discutere al più presto per far fronte proprio al decremento, alla crescita che viene meno. Ma le sanzioni sono efficaci se sono effettive. Vedete, si dice in questi giorni dovremo abbassare il condizionatore in estate al massimo a 25 gradi e quindi dovremo sudare. Guardi, mi perdoni la metafora, ma ogni goccia di sudore che noi verseremo in più eventualmente quest'estate sarà una goccia di sangue che risparmieremo al popolo ucraino. Allora, è bello dirsi dopo le stragi di Parigi, siamo tutti Charlie Hebdo, siamo tutti americani dopo l'11 settembre. Oggi l'Europa, l'Italia è chiamata ad avere un ruolo efficace ed effettivo con la durezza delle sanzioni. Dopodiché in ambito europeo ci sono e ci saranno gli strumenti per fare in modo che queste sanzioni hanno un impatto meno negativo sulle imprese. Ci sarà eventualmente, se dovessimo arrivare a un ranzionamento, ma si sta lavorando come sapete per fare in modo di avere questa autonomia energetica che non si realizza in due mesi, ma che certamente di qui a qualche mese potremo contare su un impatto molto minore. Però lo si fa soltanto se non si indietreggia di un millimetro rispetto alle sanzioni. Dobbiamo essere pronti a sacrifici, ci auguriamo che siano sacrifici solo di qualche goccia di sudore, come diceva lei, ma mi è piaciuto molto la correlazione che ha fatto. Il sudore nostro è una possibilità di risparmiare invece gocce di sangue. E allora vi devo portare nel...